Ancora i nostri paracadutisti, i nostri parà con la panfara storica, orgogliosi dell'appartenenza e certo come folgore dal cielo. Passa per i cieli un canto, è un canto di vittoria, i figli della gloria in alto vanno ancora e pronti alla battaglia, col cuore sempre allerta, ripeteranno l'offerta con rinnovato ardor, folgore! La rappresentanza dei nostri veterani, non c'è vergogna di dire a quali reparti appartenevano. Ancora i rettori di Bartolomeo Zengato, militava lui nei reparti della Repubblica Sociale ma è in cuor suo, c'era un'unica fede, quella del paracadutista. Carlo Murelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, il passato e oggi il presente con il generale Bartolini a rendergli l'onore. Mario Guerra, ultimo tra gli ultimi reddici della battaglia di El Alamem, 23 ottobre 1942, 6 novembre, Montgomery con l'ottava armata aveva cagliato.